Buongiorno, siamo con il presidente Fabio Frigerio dell'Associazione Carnevale Canturino. Siamo pronti Fabio? Siamo pronti. Diciamo che la 97esima edizione sta per partire. Avremo un piccolo anticipo sabato pomeriggio che con la banda Giuseppe Verdi è arrivato il Carnevale in via Matteotipo, in piazza Garibaldi, suonando musica. Poi domenica si parte. Alle 14 inizieremo la musica, alle 14.30 inizierà la sfilata dei 7 carri in concorso. Gli ingressi saranno aperti alle 13.30 e quindi ci sarà tutto il tempo per arrivarci e faremo i nostri tre giri del percorso finendo più o meno verso le 17.30. Quindi c'è tutto il tempo di godere lo spettacolo, le previsioni meteo sono ottime quindi siamo molto fiduciosi. In piazza delle stelle, questa volta per i nostri amici più piccoli, ci saranno anche dei giochi gonfiabili e gratuiti. Quindi le persone che pagano il biglietto, che si fanno dare il biglietto gratuito per i bambini, avranno la possibilità di sfruttare anche questi e dall'alto potranno anche ammirare il Carnevale. La sfilata è sul solito circuito cittadino, quindi parte da Piazza Volontari della Libertà ma si può vedere in qualsiasi punto di Corso Unitaria Italia di via Manana e di via Carcano e in via Carcano ci sarà l'accesso a Piazza delle Stelle per i giochi gonfiabili. Dopodiché vi aspettiamo numerosi. Potete, per evitare confusioni domenica pomeriggio, potete già prendere i biglietti o su Live Ticket o al punto vendita che è il bar Il Pozzo in Piazza Sirtori. Bene, grazie Presidente e buon Carnevale. A sabato e a domenica. Buona giornata.